In casa di Serafino Bolletta, al quale tra pochi giorni sarà consegnato il premio più ambito del mondo. E' emozionato, professore. E beh, mi chiami pure Nobel. Beh, ma la notizia non è ancora ufficiale. Non sarà ancora ufficiale, ma lo diventerò fra breve. E' vero? Adesso è sotto ufficiale, da un momento all'altro può essere... Cioè, è promossa da sotto ufficiale a ufficiale. Mi hanno fatto già il telegramma e a momenti aspetto il plico. Domani parto per Milano, la onda dove sta città? La onda dove mi imbarcherò su un aereo per questo colma. Beh, lei vorrà dire per Stoccolma. No, 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 io parlo italiano, mio caro amico. Beh, cosa dico? In italiano si dice Stoccolma. No, no, tutt'altro. Questo è il dialetto romano, romanisco. Sto cane, sto coso, sto bastone. E' vero? In romano. In italiano, questo cane, questo coso, questo bastone. Io parlo il puro italiano, ci tengo. Lei è un po' di rettale, caro Buongiorno. No, guardi, io non sono Buongiorno, sono Corrado. E per cosa ho detto io? Lei ha detto Buongiorno. Buongiorno Corrado, Corrado Buongiorno. Non mi dica un'offesa. Sì. 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 Sì.